Ciao a tutti, oggi vi presento un tutorial molto semplice e veloce su come installare e craccare Sony Vegas Pro 12. Unica precisazione da fare prima è che Sony Vegas Pro 12 è disponibile solo per sistemi operativi a 64 bit. Per sapere come è il nostro andiamo pure su start, computer, tasto destro, proprietà, qua leggiamo sistema operativo a 64 bit. Quindi siamo a posto, chiudiamo. Iniziamo pure a scaricare il nostro programma, vi metterò il link in descrizione, versione in inglese, a posto. Ora vi chiederà, io l'ho già scaricato, dovete fare il login assolutamente gratuito, basta una mail e siete a posto. Scaricate quello, scaricate la cracca, altro file molto leggero di cui vi metterò il link in descrizione. Chiudiamo e quindi avviamo l'installazione del nostro Vegas. Ci farà le solite domande, selezioniamo l'inglese, accetta e via. L'installazione è abbastanza rapida, io stesso che uso un portatile non ci metto più di, penso, 60 secondi. Una cosa molto importante è che al termine dell'installazione voi per nessun motivo dovete avviare il programma. Il programma lasciatelo. È sicuramente stato installato, non andate neanche a cercarlo, non dovete avviarlo, non avviatelo. Se per caso per sbaglio lo avviate, dovete disinstallarlo e reinstallarlo, quindi non avviatelo. Finito, avviamo questa qua, che è la cracca. Questo è un file in zip, per cui dobbiamo con un in RAR o con un in zip o comunque altri programmi validi, gratuiti su internet. Lo estraiamo ed eseguiamo questa applicazione. L'applicazione è molto semplice, possiamo solo premere patch. Vedrete qua, compare scritto ok, quindi il nostro programma è stato patchato correttamente. Si può chiudere. Chiudere è anche qua. Adesso andrò a cercare dove è stato messo. Eccolo qua, Sony Vegas Pro 12. Doppio clic. Adesso si può. Qui chiaramente si può vedere che c'è già una licenza attiva per questo programma, appunto proprio per via della cracca, e che quindi il nostro programma è perfettamente attivo e funzionante. Spero di esservi stato d'aiuto. Se è così stato, magari ricambiate con un mi piace, guardate pure gli altri tutorial e al limite andate sul mio forum che vi metterò in descrizione se avete altre domande. Grazie, buona giornata a tutti.